Crescono in tutta la provincia di Arezzo le imprese straniere. In base ai dati forniti dalla Camera di Commercio, l'incremento rispetto allo scorso anno è del 4%. Complessivamente nell'area vasta Arezzo-Siena sono 6.909, il 10% del totale delle imprese. Nell'Aretino la presenza è un po' più elevata rispetto al Senese, ma in entrambi i casi al di sotto del valore medio regionale, 14,6%. Da alcuni anni, evidenzia Anna Lapini, vicepresidente vicario della Camera di Commercio, sta crescendo il contributo che l'imprenditoria immigrata sta dando al nostro sistema economico. Pur continuando a mostrare una notevole vivacità demografica, le imprese straniere hanno anch'esse subito conseguenze fortemente negative a causa della pandemia, particolarmente colpite quelle operanti nel commercio e turismo, i settori più in difficoltà a causa dei ripetuti lockdown, che rappresentano quasi il 30% del totale. Nella stragrande maggioranza si tratta di imprese individuali, quasi 3 su 4, ed in seconda battuta società di capitale e società di persone. Si ferma invece allo 0,8% il peso delle forme societarie, in cui sono comprese le cooperative. Fra gli stranieri la crescita non è assolutamente omogenea, spiega poi Marco Randellini, segretario generale della Camera di Commercio. Nel primo trimestre del 2021 i soggetti extracomunitari sono infatti cresciuti molto di più rispetto ai comunitari. Infine i settori economici in cui si concentra principalmente la presenza di imprese straniere sono nell'ordine costruzioni, commercio, manifatturiero, agricoltura e servizi di alloggio e ristorazione.